Ho iniziato ad andare per mare da piccolino con la famiglia perché in casa c'è sempre stata una barca. Col passare degli anni certe conoscenze mi hanno acceso il fuoco della navigazione offshore, in particolare delle regate in equipaggio ridotto. Stiamo organizzando questo progetto di veloce anica il cui obiettivo principale del 2017 è la Transat Jacques Vabre. Io e Andrea abbiamo mai navigato insieme, quindi poi nelle regate in doppio c'è proprio un rapporto che si deve instaurare con l'altra persona. Con Alberto fino adesso mi sono trovato benissimo, se sono impegnative e ci troveremo bene allora vuol dire che potremo fare della strada. La qualifica è stata importante perché mi hanno navigato un po' con Andrea per fare un bel planning dei lavori da fare. Siamo entrati subito in cantiere, non abbiamo avuto un attimo. La barca che stiamo preparando sarà una barca 100% eco power, quindi pannelli solari, idrogeneratore ed è un bellissimo progetto, un bellissimo messaggio che vogliamo lanciare. Grazie a tutti.